Io che c***o sto a fare qua? Cioè che devo dire? Che devo commentare? Che devo dire? Cioè mi rendete conto di cosa ha detto De Laurentiis in questa conferenza stampa? Signori bentornati e benvenuti sul canale, io sono Dario Dottor D'Arion Siamo qui riuniti in questo 17 maggio, giorno di Fiorentina Napoli, per commentare la conferenza stampa di De Laurentiis ieri La commento adesso perché ieri l'ho vista indifferita, ho anche l'allergia, quindi proprio stiamo in una botte di ferro oggi Come ho detto ieri sera, una conferenza stampa che mi provocherà uno sfogo, però più che sfogo, diciamo che Lennissima conferenza stampa dove ne sono uscito un po' così Ecco proprio l'espressione che ho avuto quando ho finito di sentire la conferenza è stata Ecco quindi, detto questo Prima di cominciare ragazzi, vi ricordo come sempre L'iscrizione al canale, se non l'avete ancora fatto, tanti di voi guardate i video ma non vi iscrivete Fatelo perché è totalmente gratis e poi attivate anche la campanella, mi raccomando Cominciamo con la conferenza stampa di De Laurentiis Eccolo qua, che compare magicamente sullo schermo Allora, iniziamo Ieri c'è stata la conferenza di presentazione di Dini di Nero e Castelli Sangro E con mia sorpresa si è parlato anche del futuro Perché io ieri dissi, ci metto la mano sul fuoco che non si parlerà di mercato, che non si parlerà del futuro E invece, si è fatto Le date del ritiro Di Maro 11-21 luglio Mentre Castelli Sangro 25 luglio 10 agosto Attenzione alla data del 10 agosto perché come sapete se dovessimo arrivare noni Si farà il turno extra di Coppa Italia il 10 agosto Quindi probabilmente questo ritiro verrà anticipata la chiusura Poi andiamo alle parole di De Laurentiis che esordisce dicendo una cosa Vi aspettate tante novità da me, ma di queste novità non posso dirvi nulla Oggi parleremo dell'Abruzzo del Trentino Poi entro il 31 maggio faremo una bella conferenza stampa per seminare tutto il futuro che stiamo organizzando Ora, il 31 maggio escludo la conferenza stampa per annunciare l'allenatore Specialmente se tra gli allenatori che vuoi prendere ci sono tipo Italiano o Gasperini Che secondo me sono i due nomi che De Laurentiis ha fatto uscire da questa conferenza stampa Perché ci sono dei passaggi che mi fanno pensare sia a Gasperini che a Italiano Quindi se sono loro due, a maggior ragione non sarà il 31 maggio il giorno per l'annuncio Perché stanno ancora occupati con la stagione Io penso che il 31 maggio si riferisca alla conferenza dell'annuncio di Manna Diciamo, ci sarà Manna, si farà la conferenza stampa col DS C'è uno che si fa entro il 31 maggio e non si fa tipo ad agosto come è successo con Meluso Che arriva e dice non so niente, però intanto il mercato sarà stato fatto Quindi bene sotto questo punto di vista Poi parlano il presidente dell'Abruzzo Marsiglio, il presidente della provincia di Tento Fugatti Questi passaggi ragazzi ce li saltiamo perché onestamente non dicono niente di interessante Arriva il turno di Bianchini che ci parla delle amichevoli nei ritiri Allora a Di Maro ci sarà praticamente un amichevole con la selezione locale Quindi probabilmente sarà il Trento o comunque la Raune Ecco una di quelle di quel posto Poi una squadra di B o C Invece nel ritiro in Abruzzo ci sarà praticamente l'amichevole contro la Dana Demispor Poi la partita con il Girona E poi ci sarà una partita contro una squadra francese che ancora non è stata selezionata Voglio sottolineare che Bianchini ha parlato di gare internazionali e gare da alto livello Finito il turno di Bianchini iniziano le varie domande dei giornalisti E la prima domanda che viene fatta da DL è questa In questa sede due anni fa anticipo la vittura dello scudetto con quella frase Faremo di tutto per vincere Ora farete di tutto per E Delaurentis risponde Noi stiamo partendo con una ricostruzione totale Le ricostruzioni totali non possono non considerare la temporalità E questo passaggio ragazzi non so perché ma mi fa pensare a Gasperini Poi bisogna capire se è stata una ricostruzione che tu eras due, tre anni, cinque anni, sette, otto anni Però a me il binomio ricostruire contemporaneità mi fa pensare onestamente a Gasperini E in automatico non mi fa pensare a Conte Perché Conte ragazzi è uno che viene e nel giro di due anni vuole vincere Qua invece si sta parlando di ricostruire tutto da capo Bisogna investire e anche bene e soprattutto non bisogna avere fretta Quando uno inizia un nuovo ciclo, un nuovo percorso, tutto può avvenire E' chiaro che la dea bendata può sbendarsi e darti una mano Occhio adesso Io sapevo perfettamente che quest'anno non sarebbe andata con successo Tant'è che io dissi anche quest'anno noi non lotteremo per vincere lo scudetto Io quest'ultima frase onestamente non me la ricordo E sono anche andato a recuperare articoli di mesi fa Io ho un De Laurentiis che all'inizio anno dice Quest'anno non lotteremo per lo scudetto, non l'ho mai sentito Probabilmente lui se lo ricorda in quella famosa conferenza stampa del 4 agosto Che non c'è mai stata Io l'unica dichiarazione che mi ricordo di De Laurentiis Sulle ambizioni per dirla così E' quando dopo lo scudetto disse vincere, 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 vincere E adesso puntiamo alla Champions League Poi da quel momento in poi si è pronunciato solo qualche settimana fa al film Quando disse che chi credeva di vincere due scudetti di fila è un illuso Quindi caro De Laurentiis questa frase che tu hai detto Che tu sei convinto di aver detto Non l'hai detta pubblicamente L'avrai detta a qualcuno e te lo sei anche dimenticato Le situazioni vanno vissute dall'interno E' facile parlare Io potrei pure dire di aver sbagliato a mandare via Garcia Ah Ah e come mai Qui ragazzi c'è questo passaggio è fondamentale Praticamente De Laurentiis ha detto che ha sbagliato a dare ascolto ai media Perché riavvolgiamo il nastro Già dopo Napoli-Fiorentina Si parlava di un esonero, di una richiesta di esonero E non parlo di me Perché io non valgo niente Quindi se io dico Esonera Garcia Di certo De Laurentiis non mi ascolta Però se a dirlo è un giornalista O una serie di giornalisti molto più autorevoli E' normale che De Laurentiis No Ecco forse qua Ha sbagliato a fidarsi troppo dei giornalisti O comunque ha dato troppo ascolto ai media in generale Quindi qua sotto sotto sta dicendo Io non vi do più ascolto Quindi questo passaggio è importante ragazzi Di sbagli se ne commettono in continuazione quando si lavora In tutta la mia vita ho sempre assunto tutte le responsabilità dei miei gesti Più o meno Quindi chiudo una pagina Apro un capitolo nuovo Che scriverò con la stessa attenzione Che ha permesso a questa società di essere l'unica ad avere Per una certa continuità di 14 anni L'Europa come frequentazione Siamo passati dal Siamo 14 anni di fila in Europa Al Siamo stati 14 anni di fila in Europa Che poi vorrei dire Cioè Manco Manco ti puoi vantare che ne so Hai vinto due coppe in questi 14 anni Hai vinto un'Europa League Hai vinto una Champions così Per miracolo Hai fatto due, tre, quattro finali Due volte sei andato in semifinale Una volta sei andato ai quarti No Tu in questi 14 anni che hai fatto? Una semifinale di Europa League In Champions League in 14 anni hai fatto una sola volta ai quarti Hai raggiunto una sola volta la semifinale Quindi Questi 14 anni diciamo che Ecco Per frequentazione E non perché hai vinto qualcosa Se poi per una volta non ci andremo Non è un problema Quindi per De Laurentiis Il ranking UEFA quinquennale Non è un problema Poi quando L'anno prossimo avremo 0 Sul ranking 24-25 E chissà poi quando ritorneremo in Europa Se ci ritorneremo nel breve termine Poi però quando ci saranno i sorteggi Con le fasce dove il Napoli Non sarà più in seconda Ma sarà in terza e quattro E usciranno i sorteggi difficili Che non si lamentasse De Laurentiis Mi raccomando Capitolo Stadio A Bagnoli Allora Questa Qua rientriamo nell'ennesima Nell'ennesimo fumo Che ha venduto Che ha voluto venderci De Laurentiis E che continua a fare da anni E anni Sono stato un sostenitore di Bagnoli Sono stato Però qui Mentre il primo cittadino Pensa al 32 Quindi Gli europei Del 2032 Io devo pensare di essere forte Nell'immediatezza Quindi mi sono fatto una serie di interrogazioni E di analisi Quindi mi sono detto Ma chi te lo fa fare Di andare in un territorio dove questi mi dilungano sempre i tempi Mi hanno preventivato 5 anni di lavori ruspe e macchinari Che poi se arriva un bradisismo Dobbiamo sgomberare 50.000 persone da uno stadio E succede il putiferio Quindi magicamente Il bradisismo diventa un problema E io voglio ricordarvi che l'8 aprile Alla trasmissione radiofonica di Chiarriello Radio Napoli Centrale Intervene De Laurentiis Dove disse Precisamente che Il bradisismo e il Vesuvio Erano un falso problema Perché se noi dovessimo pensare a queste due cose Allora a Napoli non si costruirebbe niente Dopo poco più di un mese Il bradisismo diventa un problema Quindi poco dopo un mese Si è contraddetto nuovamente Mi sono messo quindi l'anima in pace E proprio oggi ho chiamato i miei architetti Vi do un input Voglio metterci non più di due anni Da quando metterò mani al Maradona Che deve essere fatto così, 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 così e così Ho dato loro degli input Mentre venivo qui ed ero in treno Ho semplificato tanti problemi e il burocratese Quindi punteremo sul Maradona A meno che il sindaco Manfredi Non faccia promesse da marinare Quindi solito scarica a barile Sul comune Cosa che fa ormai da vent'anni È sempre il comune il problema Sono cambiati i comuni in questi vent'anni Però sono sempre loro il problema Vabbè poi ci sta tutta una serie di cose Dove sputtana il sindaco Non c'è mai Quando l'ho appoggiato Lo chiamai Dicendo che non ero mai andato d'accordo Con i vecchi sindaci Ecco appunto È un teorico di questa data Tutte cose bellissime che ha sparato Dove ha sparato a zero sul sindaco Quindi ragazzi Sintesi Bagnoli è stato all'ennesimo L'ennesimo fumo negli occhi Che ha buttato De Laurentiis E quindi Neanche a Bagnoli si farà lo stadio Forse E dico forse E dico forse Si farà il centro sportivo Dove De Laurentiis dice Che a settembre Spera di mettere la prima pietra Per il nuovo centro sportivo Gli hanno chiesto Dove si farà E lui Voleva dire Sono cazzi miei dove lo faccio C'è un cliente Ti fa una domanda Tu dovresti rispondere Il cliente ha sempre ragione Comunque Ha detto che Deve trovare un posto Dove le mamme Possano stare tranquille Di far arrivare i propri figli In sicurezza dopo la scuola Castelvoltuno Basta Ci siamo stati Faremo un qualcosa Che si trova appunto A un quarto d'ora da Napoli Quindi ha anche fatto capire Che comunque Con Castelvoltuno Non ci sarà il rinnovo Della permanenza Perché io Ieri Lessi che Si stava pensando A un prolungare L'affitto a Castelvoltuno Ma De Laurentiis Ha praticamente fatto capire Che non ci sarà Tutto questo Chiude La parentesi Sullo stadio Dicendo A 75 anni Ho le palle fumanti Per le persone Che non danno peso Le loro parole Va benissimo Andiamo avanti Domanda questa Onestamente Si Un po' Paracula Come dice De Laurentiis Nel video promozionale Deli ti dici Saranno Osimene Varaskelia E giustamente De Laurentiis dice Questa è una domanda Paracula E quindi ti darò Una risposta Paracula Chi vivrà Vedrà Se ci saranno Lo vedremo Se non ci saranno Ve ne farete una ragione Poi Altra domanda Questa volta A intervenire È Francesco Modugno Di Sky Che fa una domanda Su Conte Se è l'uomo giusto Per il rilancio De Laurentiis Molto simpaticamente Dice Modugno Un napoletano Che ti fa Roma Di Sky Quindi dopo Dopo Di Marzio Dopo Ugolini Adesso è anche Il turno Di Modugno Modugno Zitto Non ha risposto Anche se Secondo me Voleva anche rispondere Però ha detto È meglio Che me sto zitto Per la serie Facciamoci nemici Tutti Il più possibile Su Conte Dice De Laurentiis Che ne avete parlato Voi Ne parlerai a novembre E poi non ne ho più parlato Quindi diciamo Che qui Ha mezzo smentito La cosa Poi dice Un passaggio Qua importante Quando io chiamai Sarri Lui veniva Dall'Empoli Quando ho preso Spalletti Dopo che arriviamo Terzi Gli hanno portato Via la macchina Questo pezzo Secondo me Fa pensare Invece a Italiano Lui ha in mente Anche di prendere Un allenatore Che magari In questo momento Non è molto gradito O non è molto Diciamo ben visto Stiamo un attimo Calmini Perché altrimenti Qua sembra Che ci sia Un solo uomo Che può guidare Il Napoli Verso lì Di importanti E su questo Ha ragionissimo Su questo C'ha ragione De Laurentiis Perché non esiste Solo Conte Il problema però È che adesso Il danno è stato fatto Perché a Napoli Tutti Vogliono Conte E se adesso Tu non lo prendi È inevitabile Che chiunque Prenderai Partirà con le contestazioni Coloro che hanno Diciamo Alimentato Questa cosa Di Conte Sono i giornalisti E qui Secondo me De Laurentiis Doveva intervenire Prima Perché Dice questa cosa Un po' troppo tardi Perché sono mesi Ragazzi Sono mesi Che si parla Di Conte Al Napoli E qui De Laurentiis Secondo me Doveva intervenire Prima Perché dirlo adesso Secondo me È soltanto Peggio Ecco Però io sono d'accordo Con lui Non esiste solo Conte Che può risollevare Il Napoli Assolutamente È proprio riguardo a Sarri Ricordiamoci che Sarri Non era la prima scelta Così come Spalletti Non è stata la prima scelta Quindi non vuol dire Che l'uomo più Col curriculum migliore In questo momento Può essere quello giusto E questa è un'altra cosa Che mi fa pensare A un italiano Ecco Che è uno che magari Non ha questo grande curriculum Che in questo momento Non viene ben visto Dalla piazza Quindi ragazzi Io Da questa conferenza stampa Capisco che i due nomi Che di Laurentiis Sta pensando Sono Gasperini E Italiano Onestamente Poi c'è il famoso Mister X Che nessuno ha mai fatto Io che non avevo mai Vissuto una situazione così E' chiaro Che mi sono lasciato Anche condizionare Dai media E qui l'ho detto Si è lasciato Influenzare le media E questa cosa Non va bene Perché Laurentiis Negli anni Ha fatto anche scelte Impopolari A volte anche scelte Che andavano contro I media Cioè lui deve fare Le scelte Non in base ai media Perché i media Possono dire Un sacco di cazzate Quando vogliono loro E poi ragazzi Una cosa fondamentale Che voglio dire A un certo punto De Laurentiis Si mette a parlare Dei media Che si inventano Le notizie E si sente Il giornalista Che fa la domanda Al sottofondo Dire Se lei ci dà la notizia Noi non ce le inventiamo Le notizie Tutti i giorni Cioè Lo ha detto proprio Senza vergogna Senza pudore Tranquillo Ha proprio ammesso Che si inventano Le notizie Perché altrimenti Non possono vendere I giornali Un insulto A chi fa veramente Il giornalista Questa feccia Un insulto Veramente incredibile Comunque Si parla Del modus operandi Cioè Il Napoli Si muoverà Con il modus operandi Dell'ultimo anno Ed è Laurentiis Dice Le scelte Sono sempre fatte Dallo stesso scouting Di questa stagione Gli operativi Non sono stati modificati Quindi Micheli Mantovani Sono sempre loro Poi se a un certo punto Le scelte Fatte dagli scouting Non si sono rivelate Quelle presunte Noi la nostra parte L'abbiamo fatta Abbiamo messo Sul tavolo Svariate decine Di milioni Comprando anche Parecchi giocatori Ecco Su questo Su questo Svariate decine Di milioni Mi voglio un attimo Fermare Perché Perché mi sono andato A fare un po' Il calcolo Allora Il Napoli Quest'anno Ha incassato 101 milioni Gli acquisti fatti Sono di 126 milioni Acquisti fatti 126 milioni Cessioni 101 milioni Negativo 25 milioni Quindi Le svariate Di decine Di milioni Di cui parla De Laurentiis Sono 25 Avrei potuto Prendere solo Giocatori in prestito Invece Poi Abbiamo comprato Anche nel mercato Di gennaio Svariati giocatori Svariati giocatori Mazzocchi E N'Gong Traore è un prestito Dendo anche Era un prestito Vedi I soldi spesi Per N'Gong Non mi sono mai Tirati Non mi sono mai Tirati indietro Anche quando ho capito Che la stagione Era compromessa Ricordatevi Questa frase Il calcio Che tu pratichi È comunque Inferi In una società Non ci sono solo I giocatori Tu hai degli elementi Che lavorano In certe direzioni Sia sportive Che non L'unica scelta Diretta mia È stata N'Gong Perché giustamente L'unico Che ha fatto Un minimo Di bene È stato N'Gong Invece Nistrom Nathan Kaiust Tutti quelli Che hanno fatto male L'hanno scelti Lo scouting Quello che ha fatto Un minimo bene Lo ha preso De Laurentiis E Kvara L'aveva scovato Suo figlio E Giuntui L'aveva preso Lui E Spalletti L'aveva preso Lui Tutte le cose Positive Sono a merito Di De Laurentiis Tutte le cose Negative Sono a merito Dello scouting O di chi Ha sbagliato Del settore Di competenza Ecco così Questo è il ragionamento Si parla poi Del sentimento Cioè Dopo questa Annata Così disastrosa Che sentimento Ha De Laurentiis E qui ragazzi Veramente La risposta Che mi ha fatto Più male Onestamente Quest'anno Non ho mai guardato Al passato Ciò che è accaduto Fino a ieri Fa parte Del mio bagaglio Culturale Ma non esiste più Non sono mai Deluso Nella vita Ho sempre vinto De Laurentiis Non è deluso Di un'annata Vergognosa Non è deluso Poi quando Qualche volta Qualche film Rarissimamente Non è andato bene Mi ha dato Una maggiore spinta Di affrontare La realtà Delle cose Per quelle che sono Ci sono stati Degli sbagli Punto E si volta pagina Ecco questo Mi preoccupa Punto E si volta pagina Cioè quasi a voler dire Si è sbagliato quest'anno Vabbò Basta Non ne parliamo più E andiamo avanti E no E no Perché tu dovresti fare tesoro Di quello che hai fatto quest'anno Però Da quel che leggo Non mi pare proprio Che lui abbia fatto tesoro Di quello che ha fatto quest'anno Io ho la fortuna Di avere certi risultati Economici In Europa Risultati Economici Risultati Economici E sono molto Soddisfatto Di ciò In un territorio Dove non funziona Tutto bene Soprattutto nel calcio Sono tutti pieni Di debiti Aver portato a caso Uno scudetto Non soltanto Sportivamente parlando Ma anche a livello Societario Fa molto piacere Quindi ragazzi L'ha detto lui Non me lo sto inventando Lo scudetto Dal punto di vista sportivo Gli ne frega poco Interessa L'aspetto societario E il fatto che ha avuto Dei risultati Economici Quindi quando qualcuno Dice Non soltanto sportivamente Ma anche a livello Societario Fa molto piacere Quindi l'ho proprio detto A lui interessa La parte economica La parte sportiva Se arriva Va bene Va bene Però a me interessano I risultati economici Poi 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 Abbiamo Una domanda Che avrei Onestamente Voluto un po' Più approfondire Perché c'è la domanda Di Canale21 Che gli chiede Che oltre a di essere allenatore Sono previste nuove figure E qui diciamo che Della rendi Glissa un pochettino Cioè dice Sì Molte altre figure Basta Una risposta secca Però molto generica Mi sarebbe piaciuto Avere un approfondimento Su quali figure In mente Però qui Voglio dare tempo Ecco Però in questa risposta Non è che sia stata Molto convincente Si cambierà anche L'atteggiamento E il modulo del Napoli Quindi si va Sulla parte un po' Ecco Tattica E De Laurenti Sapete come risponde Io mica faccio L'allenatore Questa è una domanda Da fare all'allenatore Ah però poi Quando si va Negli sfogliatoi A dire a Garcia Che cazzo stai facendo Cambia modulo Lì andava bene Quando potevi fare L'allenatore Queste ragazzi Sono tutte cose Che ha detto lui In passato La conferenza Vi ricordate La famosa conferenza Post Napoli-Monza Lui la disse Io sono andato Negli sfogliatoi Dopo Napoli-Empoli E mi E ho detto a Garcia Che cazzo stai facendo Devi fare così Devi fare così Lì andava bene A fare l'allenatore Adesso invece Se ne esce con Io mica faccio L'allenatore E ci mancherebbe Non si tratta Di un capitolo Che si chiude Un capitolo Che si apre Un capitolo È una cosa Troppo ristretta Noi abbiamo scritto Un libro E ora ne scriveremo Un altro In un contesto Di calcio Che sta andando La deriva E qui parte L'attacco Alla Lega A Sky A Dazon Alla UEFA Alla FIFA Quindi la solita Tattica della terra Bruciata Attorno a sé Che De Laurentiis Sa fare molto molto bene Quindi possiamo anche Andare oltre Lei disse Sono tutti cedibili Tre anni fa Quindi si parla Dei calciatori Dice De Laurentiis Tutti sono cedibili Bisogna vedere Chi se li vuole comprare E questa ultima frase Non è molto Diciamo da sottovalutare Mi fate una domanda Su Kvara Kvara è un contratto Che scade nel 2027 Sono serenissimo Sono tranquillissimo Poi ogni volta Girate il cacciavite In una ferita Che avete aperta Stimolare gli stessi procuratori Che vi inciuciano Nelle orecchie Gli articoli Per loro torna conto Per non dare seguito Al contratto Io quando ho preso Kvara Tutti dicevano Ma chi è questo? Dovete smetterla Io non voglio Che voi lavoriate Per il Napoli Per carità Non siete i miei dipendenti Ma se continuate A fare un servizio cattivo Vi nasprendo Anche la tifoseria Qui diciamo che ha ragione Perché la stampa Inasprisce la tifoseria Torniamo al punto di Conte La stampa per me Si è parlato di Conte Adesso la tifoseria Vuole solo Conte E se non arriva Conte La tifoseria si ingazza Su questo De Laurentiis Ha molto ragione Però io Continuo a ripetere una cosa Cioè Noi stiamo parlando di Kvara Non stiamo parlando di Politano Kvara è un patrimonio Del Napoli È il giocatore Che tu dovresti Coccolarti Che dovresti valorizzarlo Che dovresti tenertelo buono È mai possibile Che questo Cristiano Dopo uno scudetto vinto Da protagonista E dopo quest'anno Dove comunque Ha migliorato Tutte le sue statistiche E non fermatevi solo Triplo Kvara è il giocatore Anche come un Potrebbe essere ceduto Anche lui Mi auguro che sia stata Una pretattica Veramente Me lo auguro Me lo auguro Veramente tanto Niente Bagnoli Vello stadio Ma il centro sportivo Questa è la domanda Che ha fatto Chiarello Secondo voi Io mi devo preoccupare O meno Della salute Dei miei calciatori Bagnoli Io che ne so Di quello che si produce Nell'area Del giro di 5-6 anni Si fa tutto Un discorso Sugli ettari Che stanno Sulla montagna Io e Chiavelli Siamo andati Almeno 3 volte Negli ultimi 10 anni A vedere i terreni Mi sono detto Quindi Andiamo a farlo Da un'altra parte Come dice ormai Da anni Che cosa cambia Almeno troverò Un posto Dove io a settembre Inizio i lavori Per fare il progetto Ci metto 60 giorni Non è che il progetto Del centro sportivo Sia un grande progetto A livello di tempo E questo diciamo Che è vero Perché comunque Il centro sportivo È più veloce Da fare Rispetto a uno stadio Il problema è Che c'è Settembre Settembre è dietro l'angolo Non è che il settembre Arriva fra Fra dieci mesi Penultima domanda Servirà tempo Per un Napoli fortissimo Ha detto Di quale errore Farà tesoro Per rialzarsi Allora Innanzitutto Che non bisogna Aspettare tutto Quel tempo Che abbiamo aspettato Per mandare via Delle persone Che vogliono andare via Questo è un pezzo Importante Perché qui Della Redis ha detto Chi vuole andare via Va via E non va trattenuto E parla di giuntoli Che già da tempo Voleva andarsene Poi su spalletti Gliel'ha detto Un po' Troppo tardi Questo è un punto Importante Vuol dire che Della Redis ha capito Che bisogna Farle andare via Quando è il momento Se io a un certo punto Non voglio fare Un torto Alla Fiorentina E quindi Non ti prendi Italiano Che era pronto A venire Questa ragazza È una frase Importantissima Poi cerchi Tiago Motta Che ti dice Giustamente A chi me lo fa fare Dopo uno scudetto Quindi per Della Redis Tiago Motta Non è voluto venire Perché non se la sentiva Di allenare Una squadra spulettata Volendo Ci sta anche Come ragionamento Noi abbiamo visto Crollare il Napoli A marzo Il Napoli È crollato A marzo Altrimenti Non si perde 4-0 In casa Contro il Milan Quindi Della Redis Ancora Parla di quel Benedetto Napoli Milan 4-0 È rimasto Traumatizzato Da quel 4-0 Quella è stata Una partita Spartiacque Il signor Kvara Non l'ha segnato Per mesi Quindi Altro attacco A Kvara L'ultimo Che dovresti Attaccare Quanto manca Non ce la faccio più Sono stanco Rimpianto Tudor Ultima domanda Rimpianto Tudor Allora Intanto Tudor Voleva due anni E si era capito Che non l'hai preso Per questo motivo E io non me la sono sentita Di bloccarmi Per l'anno successivo Avevo capito Che quest'anno Era andato Come era andato Già pensavo Alla rifondazione Quindi signori Cari signori De La Redis A novembre Ha deciso Volontariamente Di mandare a fanculo La stagione Lo ha deciso a novembre Con 20 passapartite Da giocare Aveva già deciso Che questa stagione Sarebbe andata Come sarebbe andata Quindi io onestamente Dopo questa risposta Devo ritrattare tutto Sui calciatori Perché se già Se la dirigenza Già a novembre Ti fa capire Che questa stagione È andata Quindi fate quello Che volete Allora adesso Devo chiedere scusa A tutti quanti I calciatori Perché è normale Che questi Danno questa resa Sul campo Se già la società Da novembre Ti dice Ormai la stagione È andata Nella reddice A novembre Aveva già deciso Che questa Era una stagione Da buttare A novembre Potevo fargli un contratto Per due anni E poi mandarlo A quel paese Ma io quando Filmo i contratti Li faccio col sentiment E giustamente Con Mazzari C'era sempre stato Un filo Che ci univa Quando è venuto Tutti ne avete parlato bene Quindi Si è lasciato influenzare Anche questa volta Da Emilia Con Mazzari Poi non è andata bene Amen E vabbè Pazienza Che sarà mai Un anno senza Europa Se avessimo preso tutto Non è detto Che avremmo fatto Un campiato Di primissimo livello E su questo Sono d'accordissimo Perché Non c'era la certezza Matematica Però sicuramente Avresti portato a casa Almeno l'Europa minore Su questo io Ci metto la mano Sul fuoco Saremmo potuti Rientrare Da primi sei E partecipare Alla Champions Però meglio così Meglio così Cioè La La Rantis è uscito E' uscito Soddisfatto Da questa annata Cioè A De La Rantis E' andata bene Questa annata così Meglio così Cioè Meglio il tracollo Meglio i record negativi Meglio arrivare A decimi Undicesimi Piuttosto che Provare a rimettere In sesso Una stagione Che potrebbe essere Anche positiva Per gli anni futuri Meglio così De La Rantis E' contento Di aver fatto Un'annata del genere E' contento E' soddisfatto Non è deluso Io che cazzo Sto a fare qua Cioè Che devo dire Che devo commentare Che devo dire Cioè Mi rendete conto Di cosa ha detto De La Rantis In questa conferenza stampa Mamma mia ragazzi Che schifo Che schifo Che schifo Si volta pagina I primi 19 anni Sono finiti E ora Vai quei successivi 19 anni E poi Ha mai pensato Di mollare il Bari Mai E quindi qua ragazzi Si chiude Questa bellissima Conferenza stampa Di La Rantis Non voglio parlare Di Napoli Fiorentina Perché onestamente Mi è passata anche La voglia Quindi Io mi rimetto qua Fatemi sapere La vostra Nei commenti Noi ci vediamo Alla prossima Lasciate un bel like Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Mi raccomando È totalmente gratis Forza Napoli sempre Buon venerdì Noi ci vediamo stasera Col post partito Basta Basta Sono Sono onestamente Sono Sono devastato Sono devastato Ciao Sì Grazie a tutti